Le carte parlano chiaro e cancellano ogni polemica politica sul rimpallo delle responsabilità. La Regione Campania, a maggio 2018, chiede al Ministero della Salute la deroga per i punti nascita con parti inferiori a 500. A De Luca, il Comitato Percorso Nascita Nazionale chiedeva di perorare la deroga, mettendo in evidenza tutti gli standard operativi, tecnologici e di sicurezza presenti o in programma, di descrivere la rete dei punti nascita tra ABB e SPOC, lo STAM, ossia il trasporto materno, e lo STEN, ossia il trasporto neonatale, il bacino d'utenza attuale e potenziale per il punto nascita in deroga, l'analisi dei costi per il suo mantenimento. La richiesta presentata alla Regione Campania invece scarna senza riferimento a questi elementi che stentano a decollare e lo rivelano le relazioni degli organismi tecnici nazionali chiamati in causa in queste procedure. Già a marzo 2018, infatti, erano stati evidenziate dal Governo, con delle prescrizioni, le innumerevoli inadempienze della Regione, circa la mancata attivazione della rete delle emergenze materno-infantili, la mancata attivazione dei servizi di trasporto STEN e STAM, la contemporanea insufficienza dei tempi di intervento del 118, per dirne solo alcune. Nell'esprimere il proprio parere sulla richiesta della Regione, dunque, il Comitato Nazionale scrive che per Vallo non ha preso in considerazione come ospedale più vicino quello di Battipaia, ma quelli di Sapri ed Agropoli e che concede parere favorevole alla deroga per un anno per il San Luca esclusivamente in considerazione della chiusura del punto nascita di Sapri e della conseguente ridistribuzione a Vallo delle partorienti e dei professionisti di Sapri. Per l'Immacolata e per il Luigi Curto di Polla, il Comitato scrive che dall'analisi dei dati di georeferenziazione presentati dalla Regione emerge la totale assenza di disagio orografico. Il Comitato bacchetta lo scarso indice di attrazione dei due punti nascita rispetto all'utenza dei comuni del proprio bacino orienti che spesso si rivolgono ad altri ospedali. Di fronte a questo parere di un organismo tecnico, che lo ribadiamo, ha esclusivamente valore consultivo a beneficio del tavolo di verifica regionale e del Comitato permanente per il raggiungimento dei LEA, il Governatore commissario, senza documentare ulteriormente sulla orogeografia del territorio, i tempi di percorrenza, le reti, la descrizione dei punti nascita e i costi, il 5 novembre, nell'imminenza di una prossima verifica, emana il decreto che dispone la disattivazione dei punti nascita di Sapri e Polla con decorrenza 1 gennaio 2019 e non c'è altro da aggiungere.